Sconfitta per la BBC Group Bernalda che con la capolista Corato nella dodicesima giornata di ritorno del campionato di basket di serie B di Lettanti perde per 60-70. Un turno ostico per la squadra ionica che comunque nonostante la superiorità degli avversari esce sconfitta dal pala campagna solo con 10 punti di distacco recuperandone altrettanti 10 durante il quarto tempo. 21-19, 33-42, 47-63 e 60-70 i parziali della gara che testimoniano come la squadra ionica nonostante la grande differenza abbia comunque cercato di onorare al meglio la gara cercando al termine con tutte le sue forze di recuperare il gap accumulato durante il secondo e il terzo quarto. Una stagione difficile, quella che si sta per concludere per la squadra rosso-blu che nonostante tutto cerca sempre con i suoi ragazzi di onorare tutte le domeniche la maglia che indossa. Al termine della gara, consapevole dei limiti del suo team, coach Cotrufo ha ben delineato i problemi della sua squadra evidenziando gli sforzi che tutti stanno facendo per cercare di raggiungere l'obiettivo. Certamente, ha detto il coach, non speravamo di vincere con il corato ma cerchiamo di commettere meno errori possibili e per questo vorremmo da parte del pubblico tutto il sostegno possibile perché solo uniti potremo superare le difficoltà che comunque abbiamo in maniera più serena e tranquilla.